Io ritengo che quando si gioca una mano la pianificazione, una volta avesse le varie strade quale potranno essere le azioni di Ioppo e anche la tua, per così poi poter concludere la mano in maniera migliore e portarla a casa il piano. Descendete il lavoro dal gioco del poker in maniera molto semplice, quando si è al lavoro bisogna staccare completamente il cervello dalle mani giocate la sera prima, il giorno prima e concentrarsi su quella che è la propria attività, qualunque essa sia. Dall'impiegato al manager, perché in quel momento quella è probabilmente la tua vera fonte di guadagno e di sostegno. Il Maurizio di oggi si vede migliore per alcuni aspetti della propria vita, non che non c'era la poker, ma anche la Maurizio Accardo di 15 anni fa. Il poker comunque in qualche modo cambia un po' le abitudini di Maurizio Accardo, padre, famiglia e marito. Da questo punto di vista una regressione nell'ambito familiare, ma come presenza c'è stata. Poi per me la famiglia viene prima di ogni altra cosa, sarei disposto domattina a lasciare il poker per la famiglia se mi dovessi trovare nella situazione. Un saluto a tutti, scrivo poco ma vi leggo tutti, vi giuro vi leggo tutti, un saluto a tutti i più belli. Grazie.